Proseguono le demolizioni in zona vincolata da Grigento, sopra luogo del videogiornale a Poggio Muscello, dove le ruspe lavoreranno fino a sabato. Irene Milisenda! Continuano i lavori di demolizione degli immobili abusivi in zona vincolata da Grigento. Le ruspe sono già entrate in azione lunedì incontrata a Poggio Muscello, a villaggio Mosè, dove si è proceduto con l'abbattimento di un muretto di cinta. I lavori, dopo essere partiti, erano stati bloccati dai legali del proprietario del manufatto, che avevano posto un vizio di forma perché, per dare esecutività alla sentenza, era necessaria la verifica del titolo esecutivo. Poi, grazie all'intervento del sostituto procuratore di Grigento, Carlo V, la seduzione si è sbloccata. Da ieri sono iniziati i lavori per la demolizione di un ovile di 43 metri quadrati, situati anch'esso nella contrata grigentina. Oggi siamo stati sul luogo della demolizione. Gli addetti ai lavori, con una ruspe e con un camion, stanno procedendo con la rimozione del tetto in Eternit e alla bonifica del luogo. Solo venerdì mattina si potrà procedere alla demolizione dell'ovile. Sul luogo presenti anche i carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale e l'azienda sanitaria per controllare la corretta esecuzione dei lavori. Il costo dei lavori, affidato ad un'impresa edile di Palma di Montechiaro, è di 7.556 euro. Il comune di Grigento ha intanto redatto il calendario dei lavori. Dal 31 agosto al 5 settembre, come programmato, non vi sarà bisogno di intervenire in via degli imperatori per radere a suolo un fabbricato, perché ha già provveduto a demolirlo il proprietario. Risparmiati pertanto 9.317 euro che altrimenti avrebbero dovuto pagare il proprietario. Da 6 fino all'11 settembre l'impresa sarà ancora al lavoro, per la terza volta incontrato Poggio Muscello. Mentre dal 12 al 24 settembre sarà all'opera in via Afrodite, dove verranno demoliti due fabbricati. In contrada a Maddalusa, le demolizioni sollecitate dalla procura si svolgeranno dal 25 settembre fino al 1 di ottobre. L'ultimo fabbricato che sarà abbattuto si trova in contrada a Cugnovela, dove gli operai resteranno al lavoro dal 2 al 6 ottobre.